Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Perde 300 euro al Gratta e Vinci e morde il tabaccaio. Dopo aver bruciato 300 euro di Gratta e Vinci ha pensato bene di dare un pugno in fronte al tabaccaio e di mordergli il braccio. È quanto accaduto, in una tabaccheria di via Cesare Battisti a Bolzano. In base alla ricostruzione del titolare raccolta dai poliziotti giunti sul posto, il giocatore, risultato poi essere un pakistano di 51 anni, si è presentato in tabaccheria già parecchio alterato dai fumi dell'alcol, ed ha iniziato a giocare a più riprese al Gratta e Vinci. Persa la cospicua cifra di quasi 300 euro, ha perso le staffe e ha gettato addosso al tabaccaio i tagliandi perdenti. L'uomo, per evitare guai, lo ha invitato a uscire dal suo locale, ciò, però, ha incattivito il pakistano che prima gli ha dato un pugno in fronte, poi l'ha morso al braccio e quindi è fuggito. Gli agenti, però, non ci hanno messo molto a trovarlo e a identificarlo, scoprendo pure i suoi precedenti. Per lui è scattata una denuncia per l'aggressione, ricevendo anche un decreto di espulsione da parte del questore Paolo Sartori.